E' salita a bordo di un treno ad alta velocità alla stazione di Venezia con un bagaglio che conteneva 130.000 euro in gioielli e una volta arrivata a Milano si è accorta di aver subito il furto della valigia. La disavventura di una turista raccolta dalla polizia ferroviaria del capoluogo Lombardo si è poi conclusa con l'identificazione e la denuncia di tre giovani donne da parte della polizia giudiziaria del compartimento Polfer del Veneto. Il terzetto, già con precedenti per reato contro il patrimonio e destinatario del foglio di via obbligatorio, è ora ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso. Sistemate le valigie negli appositi spazi, la donna aveva preso posto in carrozza rendendosi conto del furto solo una volta giunta a destinazione. La ricostruzione investigativa, sfruttando le immagini di videosorveglianza, si è poi concretizzata nei gravi indizi di colpevolezza a carico delle tre giovani donne.